l'avete ascoltato ieri dalla viva voce di chi realizzato questo progetto che ricordiamo questa protesi col quale poi il ballerino ha danzato è stata realizzata da sony csl progetto nato dalla collaborazione con il centro coreografico nazionale a treballetto e qui con noi non dico che viene ma torna torna il direttore di sony csl rom nonché professore di fisica dei sistemi complessi di sapienza università di roma vediamo se ho detto tutte le informazioni corrette vittorio loreto benvenuto per leggere tutto la qualifica ci vuole testo dei dieci minuti un minuto va solo per la qualifica ma ci sediamo siamo in piedi come preferisci tu dai 10 dell'ospite ci sediamo va bene fantastico anche perché poi so che anche tu hai portato dei un video no quindi insomma poi dopo lo vedremo lo vedremo allora e ci puoi spiegare ieri abbiamo ascoltato dalla viva voce di del creatore di chi appunto ha realizzato questo 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 progetto quanto anche è stato emozionante e che orgoglio è stato questa realizzare questa protesi vederla in all'azione poi giovedì ci puoi raccontare invece con te voglio capire bene come opera che cos'è sony csl qual è il vostro lavoro innanzitutto ieri è stata un'emozione grandissima raccontarlo e ancora prima giovedì sera giovedì sera vederlo assolutamente e cos'è sony csl allora è chiaramente un laboratorio di ricerca pura all'interno della della galassia sony molto particolare perché non è il classico diciamo laboratorio di ricerca e sviluppo in qualche modo noi siamo abbastanza liberi diciamo proprio quasi da statuto diciamo di esplorare diciamo la nostra curiosità e quindi utilizzare la creatività per portare avanti vari progetti la novità da un paio d'anni è che questo laboratorio che è nato più di 30 anni fa a tokyo adesso con varie sedi in in giappone e in europa è arrivato a roma è arrivato a roma tra l'altro in una configurazione molto particolare di nuovo perché è nato grazie ad un accordo scientifico con un istituto di ricerca pubblico l'istituto di ricerca enrico fermi che è proprio nei palazzo di via panisperna appunto dei ragazzi di via panisperna di di tanti anni fa ed è una collaborazione pubblico privato quasi quasi inedita che chiaramente ha le sue difficoltà per funzionare perché da un lato c'è una corporate grande dall'altro c'è un istituto di ricerca pubblico però insomma cerchiamo di farlo funzionare chiaramente il denominatore comune sono i progetti di ricerca e le linee che stiamo che stiamo lanciando fantastico ci puoi dare proprio degli esempi concreti per capire degli esempi che cosa fate ma guarda due o tre esempi il tema fondamentale con cui siamo arrivati di fare cambio posto così io guardo il timer lo dico la regia così almeno tengo sotto controllo il tempo prego voglio capire bene gli esempi siamo arrivati a roma con un tema fondamentale che era quello dei goal dello sviluppo sostenibile delle nazioni unite l'agenda 2030 che chiaramente si sta avvicinando a passi rapidissimi e purtroppo siamo tutti un po' lontani da raggiungere questi obiettivi ma questo non vuol dire che non continuiamo a provarci abbiamo tre linee di ricerca fondamentali di cui ci occupiamo abbiamo sentito poco fa parlare di città invisibili noi abbiamo un tema di ricerca che che riguarda le città e la sostenibilità delle delle città il che vuol dire non soltanto cercare di ottimizzare quello che abbiamo perché sarebbe sarebbe riduttivo il punto è che quello che noi vediamo nelle nostre città e diciamo nelle nostre società è in qualche modo la necessità di un cambiamento radicale cioè di ripensare in maniera trasformativa il modo in cui viviamo e ci organizziamo e questo chiaramente non può essere fatto soltanto da un singolo gruppo di ricerca c'è bisogno di uno sforzo sforzo corale avrai sicuramente sentito parlare di questo slogan della città 15 minuti della città di prossimità cioè l'idea che ognuno dovrebbe avere la possibilità di raggiungere in teoria in 15 minuti ma insomma 15 minuti chiaramente è un numero significativo tutti i servizi essenziali e noi stiamo provando a studiare quanto le città attuali sono vicine a questo ideale e abbiamo cominciato anche ad andare oltre questa idea perché chiaramente il punto fondamentale non è tanto il tempo che chiaramente è importantissimo ma anche il fatto di poter accedere a delle opportunità per potersi esprimere, per potersi sbagare, per poter lavorare, per poter fare tutto quello che ci rende umani e quindi guardiamo le città da tantissimi punti di vista diversi da quelli della mobilità che abbiamo visto anche poco fa a quello anche un po' dell'innovazione che riguarda poi la Maker Faire cioè i brevetti che vengono proposti e quanto la città ha una capacità propulsiva. Un secondo grande progetto l'abbiamo chiamato Infosfera. Quindi questo era il primo, il secondo? Il secondo l'abbiamo chiamato Infosfera. Infosfera. Intendendo in qualche modo tutto l'ecosistema che gira intorno all'informazione, chiaramente le notizie ma se voi in generale immagino bene perché chiaramente questo riguarda il modo con cui si struttura il dialogo sociale che come sappiamo ha tantissimi problemi quindi fake news, le filter bubbles, la polarizzazione, l'odio che si spande diciamo. L'infodemia a un certo punto in pandemia si diceva no? Assolutamente, assolutamente. Questo eccesso di informazioni che portava le persone a essere anche un po' spaisato, questo overload, questo sovraccarico di informazioni. Da un lato c'è l'overload di informazioni che chiaramente ci crea dei problemi, diciamo anche per capire dove sono le informazioni rilevanti, ma dall'altro c'è il fatto che spesso noi utilizziamo l'informazione in maniera distorta e cerchiamo di in qualche modo esprimere dei messaggi che sono forse a volte forvianti con questo. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è da un lato studiare il fenomeno, in sé per sé, insomma da bravi scienziati e dall'altro cerchiamo di trovare delle contromisure. Per il fine ultimo sarebbe quello di migliorare il dialogo sociale e sappiamo bene, adesso non parliamo di questo oggi, però sappiamo bene quanto la nostra società e le nostre società siano in qualche modo in una situazione di estrema crisi, vediamo quello che sta succedendo in vari scenari mondiali. Sicuramente il fatto di dialogare in maniera più costruttiva e più propositiva sarebbe un obiettivo importantissimo. E qui veniamo al terzo tema fondamentale che l'abbiamo chiamato 3, numero 3. Creatività aumentata. Dove aumentata vuol dire chiaramente grande interesse sugli umani, su di noi, ma chiaramente l'idea è di aumentarci e di espanderci se vuoi con l'aiuto della tecnologia. Abbiamo parlato appunto dell'utilizzo di protesi, abbiamo parlato di robotica, però in realtà chiaramente c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale dietro. Il punto non è tanto potenziare le capacità di una macchina, ma potenziare tramite la macchina, la tecnologia, le capacità degli umani per essere più espressivi, per essere più creativi. Allora, come dicevo prima, so che hai portato un video, giusto? Che non so se è quello che abbiamo visto alle spalle mentre parlavamo era quello? Forse è già passato, sì. E' muto o va visto con la musica? No, no. Se è già passato va bene così, sì, assolutamente. Ok, allora, quindi posto che il video lo diamo per visto, lo diamo per assodato, allora voi avete un grande storico qui a Maker Faire Rom, no? Sì. Quest'anno su cosa volete puntare maggiormente? L'attenzione? Su quale tema in particolare volete puntare? Allora, il tema di quest'anno, che è un po' la cifra nostra del laboratorio, è quello della combinazione di due termini fondamentali. Da un lato la tecnologia e dall'altro l'umanità, cioè in che modo si possono combinare questi due elementi. Dicevo prima, creatività aumentata non è uno slogan, è un'idea concreta. Abbiamo bisogno di creatività non soltanto in ambito artistico e ambito performativo, di cui pure ci occupiamo, ma abbiamo bisogno di creatività perché abbiamo bisogno di idee, di pensatori fini, di qualcuno che sia capace di immaginare il futuro e di avere delle idee geniali, piccole o grandi che aiutino tutti noi a risolvere, in qualche modo ad affrontare le sfide che siano piccole. Che poi cos'è piccolo, cos'è grande alla fine. Assolutamente, dicevamo ieri, parlavamo del linguaggio che è restrittivo in qualche modo, quindi utilizziamo aggettivi. Cos'è abilità, cos'è oggi, cos'è abilità, cos'è disabilità, si mette tutto in discussione proprio grazie alla tecnologia, no Vittorio? Assolutamente sì. La tecnologia ridefinisce anche alcuni significati delle parole. Spesso sì e spesso in realtà bisogna avere un po' la curiosità di capire dove si va a parare, perché la possibilità, faccio un esempio, di combinare queste protesi in un ambito performativo è un'idea da maker, ho questi due oggetti, il bricolare che è lì, ho questi due oggetti, queste due realtà, le metto insieme e che succede? E poi si scopre in realtà che c'è un ambiente molto prolifico, un sacco di domande tecniche vengono fuori, ma anche un sacco di interpretazioni che possono stimolare, come dicevamo ieri, un discorso anche su che cosa vuol dire disabilità e che cosa vuol dire in qualche modo inclusione in una società come la nostra. Bellissimo. Senti, te l'ho chiesto anche ieri, questo connubio tra scienza e arte è bellissimo, no? Perché giovedì, durante l'opening conference, lo ricordo, chi non l'ha visto, c'è stata questa esibizione grazie a una protesi, no? Cioè, questo ballo è stato potuto fare, questo ballerino proprio grazie a una protesi. È molto bello questo binomio, no? Scienza e arte, perché l'arte può essere tale anche grazie alla scienza. E la scienza si interessa all'arte, l'arte si interessa alla scienza. Oggi nel 2023. È un dialogo costante, come sai, insomma, se ne parla tantissimo di questo connubio arte-scienza in questo momento. Dal nostro punto di vista l'idea non è tanto quella di cercare di spiegare l'arte tramite la scienza, che pure può avere un suo interesse, però penso che sia limitato. Dare nuovi strumenti, no? Si possono dare nuovi strumenti. Sì, il punto è, diciamo all'inizio, avere un occhio trasformativo sul mondo e sulla società significa avere buone idee. Da dove arrivano le buone idee? Abbiamo la presunzione di dire che le buone idee arrivano soltanto dalla scienza, ma certo che no. Siamo nell'anno del centenario di Calvino, che ha scritto questo libro meraviglioso sulle città invisibili. E abbiamo sentito parlare di città invisibili poco fa. Tanto una settimana fa, cento anni, domenica scorsa. Assolutamente, sì. E quindi l'idea è un po' quella, cercare di capire, di buttare, io dico sempre, buttare i passaporti che abbiamo. Cioè, ci mettiamo tutti nella stessa stanza, buttare i passaporti e cerchiamo di avere delle buone idee. È quello che proviamo a fare. Quindi abbiamo continuamente artisti in residenza. Da noi, i danzatori, adesso tramite questa collaborazione con l'Ater Balletto saranno sempre di più, però giochiamo con gli scrittori, giochiamo con i musicisti. Quindi è un'esplorazione continua e vediamo dove andrà a parare. Bellissimo. Dove vi trovano? Qui al Maker Faire? Allora, siamo nel padiglione 3, in fondo in fondo. Non siate timidi, arrivate fino in fondo e ci troverete. Mi piace sempre ricordare il numero del padiglione così chi ci segue o chi è qua sa dove vi possono trovare. Assolutamente, sì. Perfetto, grazie mille Vittorio per essere stato qui con noi. Grazie mille.